A nome della comunità di Stradella do il benvenuto a Don Gianluca Vernetti. Sono veramente felice e onorato di accoglierla oggi come nuovo pastore della nostra comunità e un caloroso benvenuto anche a Don Daniele Lottari che la affiancherà nello svolgimento delle attività nella nostra parrocchia. Oggi la nostra comunità presente in una chiesa gremita nel rispetto delle regole e presente sul sagrato assai numerosa è in festa, è in festa per questo arrivo e pur non dimenticando l'operato di Don Pietro e di Don Cristiano chiamati a nuove esperienze pastorali da sua eccellenza reverendissima Monsignor Vittorio Viola Vescovo della Diocesi di Tortona che saluto con deferenza questa nostra comunità è pronta a guardare avanti ed è entusiasta di poter affrontare un nuovo tratto di strada insieme al suo nuovo parroco. Noi, sindaco, assessori, consiglieri comunali, siamo certi che sapremo guardare insieme nella stessa direzione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Voi due e direi proprio di no, vuoi tre. Voi due e direi proprio di no, vuoi tre. Voi due e direi proprio di no.